26 settembre 1983. Piena guerra fredda. Un errore di programmazione rischiò di far precipitare il mondo in un conflitto nucleare. Questa è la storia di come un bug informatico stava portando il pianeta sull'orlo della catastrofe. Tutto ebbe inizio nel bunker di comando Sepulkov-15 vicino Mosca. Qui il sistema di allarme rapido sovietico chiamato Oko monitorava costantemente eventuali lanci di missili indovinati da parte di chi? Gli Stati Uniti. Quella notte il tenente colonnello Stanislav Petrov era l'ufficiale di Dunno. Il suo ruolo era quello di valutare le segnalazioni del sistema e, se necessario, informare i suoi superiori di un potenziale attacco. Poco dopo la mezzanotte l'impensabile accadde. Almeno l'impensabile per i sovietici. Il sistema Oko segnalò il lancio di un missile balistico intercontinentale dal territorio degli Stati Uniti verso l'Unione Sovietica. Pogli istanti dopo il sistema rivelò altri quattro lanci. Secondo i protocolli Petrov avrebbe dovuto immediatamente informare i suoi superiori che, a loro volta, avrebbero potuto ordinare una rappresaglia nucleare. Tuttavia, le cose non quadravano a Petrov. Basandosi sulla sua esperienza e anche sul suo istinto, ritenne improbabile che gli Stati Uniti lanciassero un attacco nucleare con cinque missili. Un vero attacco nucleare avrebbe previsto un borbardamento massiccio con decine, se non addirittura centinaia di testate nucleari per neutralizzare la capacità di risposta dei sovietici. Ora, immaginatevi voi di essere là a controllare la sicurezza della tua nazione e il sistema che si occupa di vigilare indica una potenziale minaccia nucleare. Credo che solo questo meme possa descrivere al meglio cosa provava quell'uomo in quei momenti. E se ancora non vi siete immedesimati nel nostro eroe, allora è meglio aggiungere alla narrazione qualche nota sul quadro storico. Al momento di questo incidente, le relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica erano particolarmente tese. L'inizio degli anni Ottanta aveva visto un escalation della corsa agli ammarmenti, con il presidente americano Ronald Reagan, l'attore, che aveva intensificato la retorica anticomunista e avviato il programma di difesa missilistica, ufficialmente chiamato Strategic Defense Initiative, cioè iniziativa di difesa straveggica, però soprannominato Guerra Estellari. Non sto scherzando. Dall'altra parte c'era l'Unione Sovietica, guidata da Yuri Antropov. Era, diciamo, l'Unione Sovietica in quel periodo in uno stato di paranoia crescente. Solo pochi mesi in prima, nel marzo dell'Ottantatré, Reagan aveva definito l'Unione Sovietica l'impero del male. E il primo settembre dello stesso anno i sovietici avevano abbattuto un aereo di linea coreano, scambiandolo per un aereo spia americano. In questo clima da 007, entrambe le superpotenze erano in costante allerta, temendo un attacco nucleare imminente dall'altra parte. Nonostante la pressione immensa e il pochissimo tempo a disposizione, Petrov decise di segnalare l'allarme come un malfunzionamento del sistema. Una decisione che, come si scoprì, salvò il mondo da una potenziale guerra nucleare. Va bene, abbiamo capito, i sistemi dell'Unione Sovietica hanno glitchato come quelli di Microsoft venne discorso. Ma cosa è andato storto? Lo rivediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati i pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi racconto di un bug informatico anni 80 che poteva portare la civiltà umana ai tempi del Neolitico. Prima di proseguire, lasciate un like, cliccate il magnifico tasto, iscriviti per supportare questo meraviglioso canale e se volete potete offrirmi un caffè virtuale tramite Coffee. Il link lo troverete in descrizione e ringrazio tutti coloro che lo hanno già fatto. Prima o poi, con le vostre donazioni, ci farà qualcosa. Per il momento sta tutto là. Alla fine di questo video aggiungo una piccola chicca, quindi rimanete proprio incollati fino alla fine. E adesso riprendiamo. Cosa aveva fatto scoglionare i sistemi dell'Unione Sovietica? Le analisi successive rivelarono che non c'era stato accullancio di missili da parte degli Stati Uniti. Il sistema OCO aveva malinterpretato un raro fenomeno ottico, il riflesso del Sole su una nuvola ad alta quota. Semplice. Questo fenomeno, combinato ovviamente a un bug contenuto nel software del sistema, aveva generato il falso allarme, perché alla fine era un falso allarme. Il bug in questione era nel codice che interpretava i dati provenienti dai satelliti di sorveglianza. Il software non era stato programmato per gestire questa particolare configurazione di riflessi solari e l'aveva erroneamente classificata come la firma termica di un lancio di missili. Pertanto, un semplicissimo, se così possiamo dire, l'errore di programmazione aveva quindi rischiato di scatenare una catastrofe globale. L'incidente rimase segreto per molti anni. Solo dopo la fine della Guerra Fredda, tutti noi siamo venuti a conoscenza di questa storia e di come il mondo si era avvicinato all'orlo del baratro nucleare. Stanislav Petrov, l'uomo che con la sua decisione aveva evitato il disastro, rimase nell'ombra per molto tempo, considerando che lui diceva che ho semplicemente fatto il mio dovere. Questa storia ci offre diverse lezioni importanti. In primo luogo, evidenzia la vulnerabilità, diciamo, dei sistemi tecnologici, anche quelli considerati più sicuri e affidabili. Date un'occhiata a Microsoft. Un semplice bug di un software critico può avere conseguenze potenzialmente catastrofiche. In secondo luogo, questa storia sottolinea l'importanza del giudizio umano nell'era tecnologica avanzata. Nonostante i sofisticati sistemi, la capacità di ragionamento critico e l'intuizione rimangono comunque fondamentali. Ma cosa nel stato di Stanislav Petrov? Quello che molti considerano un atto eroico rimase sconosciuto, come dicevo poco fa, al mondo per molti anni. La sua azione non fu mai riconosciuta dai suoi superiori. Anzi, fu inizialmente criticato per non aver compilato adeguatamente la documentazione relativa all'incidente. Quando la storia venne alla luce, Petrov ricevette un riconoscimento internazionale, fu onorato dalle Nazionite, ricevette numerosi premi per la pace e fu soprannominato l'uomo che salvò il mondo. Nonostante ciò, Petrov visse il resto della sua vita in modo modesto, nella città di Friasino, vicino Mosca. La sua storia continua a essere raccontata come un esempio di come il giudizio umano e il coraggio possono fare la differenza anche nell'era tecnologica. Perfetto, pinguini, questo era quello che vi volevo raccontare oggi. Fatemi sapere se conoscevate questa storia. Io già, ovviamente, la conoscevo. La ciliegina sulla torta per quanto riguarda questo video è che, a parte la presentazione e questa chiusura e qualche piccolo ritocco al testo, la maggior parte di questo video è stato scritto con cloud. Perché? Due motivi principali. Uno, lo volevo provare. Due, scrivere un video con un'intensità artificiale che parla dell'importanza del fattore umano e, non lo so, ha qualcosa di poetico, una sorta di una specie di ossimolo. Fatemi sapere se avevate intuito che questo video non era stato scritto da un umano come me. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao, chilo. Ciao.